max parto da un'immagine 20 13 a 7 23 16 forse nel nel terzo set ti sfugge una difesa su un primo tempo di loser ti sei arrabbiato come se non avessi fatto prima mille altre difese mille altre grandi azioni bellissimo atteggiamento visto da fuori voglio sapere da dentro sì avevo difesa di più difficili non era impossibile e quindi sono un po un po arrabbiato sai questo questa volta eravamo 23 16 17 non ricordo in 17 detto ecco però magari può succedere sul 23 pari e diventa un po più importante sì dai oggi sono contento mi sentivo bene stavo bene ma tutta la squadra secondo me ha girato in maniera ottima un po' in tutti i fondamentali ecco no era sai poi anche importante perché per come si era messa la partita volevamo chiuderla no il prima possibile per tornare a casa a riposare sappiamo che esso arriverà un periodo molto molto complicato e quindi se si riescono a chiudere prima queste partite tanto di guadagnato e questo atteggiamento proprio forse sta facendo la differenza in questo periodo no l'abbiamo detto il primo posto di regular season è ormai stabilito ma la squadra chiunque gioca nonostante tutte le varie rotazioni di di Andrea ha sempre questo atteggiamento propositivo e vincente sì perché noi abbiamo iniziato la stagione pensando gara per gara e lo stiamo continuando a fare e in questo momento no il regular season diciamo che per quanto riguarda proprio i punti a noi interessa poco interessa migliorarci interessa fare meglio interessa migliorare singolarmente tecnicamente migliorare di di squadra nei vari reparti insomma e questo il nostro obiettivo è che vogliamo arrivare pronti preparati a Roma e insomma lo stiamo facendo con secondo me nel mondo giusto ecco un'ultima cosa max 8 mila e 35 persone bellissima organizzazione dell'allianz a cui faccio i miei personali complimenti bello giocare in un ambiente del genere sì in passato ho avuto la fortuna di giocare qui con la nazionale tanti tanti anni fa ormai con con trento vinto perso ma indipendentemente dal risultato bello il forum è veramente incredibile è diverso da tutti gli altri palazzetti enorme c'è tanta gente si gioca bene e quindi insomma ci tenevamo particolarmente anche per per questo motivo si è stato sono stati due giorni perfetti anche per noi insomma noi ci hanno allenato ieri pomeriggio ci hanno dato tutto quello no di cui avevamo bisogno quindi faccio anch'io insomma i complimenti a loro è bello spero spero di poterci ecco tornare perché fa molto piacere giocare qui alla forma bene grazie max